buongiorno e buon weekend allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e voi sapete che condividi i miei video mi fa diventare un po' più visibile e alla mia gratitudine bene devo affrontare una cosa uscita ieri una cosa che penso possa interessarvi oltre a ritornare sulla questione della proposta di forza italia vabbè rosetto che è di ex fratelli d'italia quindi sicuramente non è la mia parrocchia ma come ha scritto il nostro bravo fabrizio non è un totale fesso non siamo a livello dell'olobrigida di turno o della russa di turno ecco e fa notare una cosa in merito ai problemi del sul lavoro che non è comunque reddito di cittadinanza il problema problema sono gli stipendi bassi gli orari assurdi la poca regolamentazione e questo è un problema che nasce ben prima dell'rdc ma decenni prima c'è arrivato anche poro che sapete quando gli parli di reddito di cittadinanza ha una specie di non so di attacco di campi allo stomaco perché lui è uno di quelli convinti che devi lavorare e se poi il padrone ti sfrutta devi anche essere contento e c'è una cosa che dice cosetto che c'è un atteggiamento da parte di questi datori di lavoro quasi da re che concede un beneficio al suo suddito cioè il lavoro è lavoro tu non vivi per lavorare lavori per vivere ecco e se uno ha la possibilità vive basta ecco no c'è questo atteggiamento io ti do questi soldi e tu devi essere migrato anche se con quei soldi tu non campi e no non è che così non è così che funziona il sistema del lavoro non funziona così adesso funzionava così 200 anni fa ma mi sembra che ci siamo un po evoluti da allora non è è un beneficio non è grazie ricevuta insomma leggetevi germinale lo consiglio a certe persone e lo consiglio caldamente a massimo giletti che tra l'altro ragazzi quando si tratta di buttare soldi nel cesso vuole andare a fare la trasmissione direttamente dalla piazza rossa a cosa serva lo sa solo lui ma ve l'ho detto quando mentana gli ha fatto un mazzo tanto qual è stata la sua esposta è giornalismo no quello non è giornalismo è trash è trash punto e non nasconderti dietro come fanno le persone come te al ditino de ma io faccio informazione perché se porti solo casi umani non fai informazione fai sciacallaggio punto dicevo poi giusta poi fa una considerazione ragazzi anche se io la faccio in altri termini non è sbagliata come scritta la legge della radici è scritta male lui dice che fa schifo io dico che è scritta male ma lo sapete perché è scritta male la prima innanzitutto si sono mischiate due cose cioè un un decreto fatto per salvaguardare aiutare le persone più in difficoltà con un'idea di ricollocamento lavorativo che non sono automatiche soprattutto in un paese come l'italia perché in germania le strutture ci sono per fare questa operazione io non cito la germania caso perché l'esempio il modello che si è preso in italia è quello tedesco è quello tedesco non è che lo cito tanto per dire ma là le strutture per il collocamento ci sono qui no qui sono state demolite da anni e anni di incapacità incompetenza da parte dei politici ultimo in totale il grullo il grullo fiorentino dicevo quindi non arrivo a dire che fa schifo dico che è stata scritta male perché le due cose andavano scisse prima una misura di sostegno per combattere la povertà poi una misura di ricollocamento lavorativo perché così come adesso la prima ha dei problemi lo sapete benissimo anche voi cosa che ha messo in luce anche unione europea una cosa su tutte non c'è un adeguamento in rapporto al costo della vita non c'è un adeguamento neanche in rapporto al luogo in cui vivi cioè la cifra è uguale per tutti ma in un paesino con quella cifra ci puoi fare delle cose in una grande città no ma anche una città media ecco e poi vediamo di strutturare la ricerca del lavoro che di fatto non è strutturata siamo ancora qui ad aspettare questo famoso programma di di orlando perché se è stata scritta male non è che dopo chi è arrivato ci ha messo mano è perché orlando sull'rdc a parte i controlli in più che comunque erano già previsti nel decreto semplicemente non li faceva nessuno a parte i controlli più non ha fatto un cazzo non ha fatto un beniamato cazzo e qui torno al al mio antagonista che io comunque rispetto ve l'ho detto io molto più rispetto del professor vincitore di che è della in direzione ostinate contraria rispetto alla mia sono io che sono in direzione ostinate contraria per essere precise cioè siamo su due poli opposti lui è di destra io sono di sinistra però il paraocchi non me l'hanno ancora dato fortunatamente e non credo e mi piace se c'è un politico che è anti rdc è marco rizzo che capo del partito comunista italiano praticamente quando si riuniscono gli basta un monolocale che tra l'altro arriva a sostenere la candidatura della donato e ce ne vuole scusatemi ma ce ne vuole non lo so si si stupiva del patto ribbentrop molotov ma qui siamo a quei livelli e e che ragiona coi paraocchi e che è un avversario dell'rdc lo dico io che sono di sinistra ma la sinistra vera cioè quella che si preoccupa dei più deboli delle difficoltà delle persone che hanno bisogno di lavorare di un'assistenza medica giusta e regolare delle immigrazioni ma fatte in modo serio e non cacciarone cialtrone perché non è che da salvini si è passati all'amborgese sono cambiate le cose l'amborgese ha fatto le stesse porcate di salvini semplicemente non si può dire al massimo si può dire che lei fa il collaudo test ai veicoli per vedere se ballano tra l'altro ve l'ho detto l'amborgese non si è presa nessuna responsabilità per lo schifo fatto in quel rave che ha prodotto decine di migliaia di euro di danni ne hanno beccato solo uno tra l'altro un nulla tenente ma la c'è una valanga di mercedes e così non ne hanno tanata mezza possibile che non ci fosse uno in grado di copiare le targhe di quelle macchine e ve l'ho detto l'efficienza la si vede anche da queste cose perché devo dire che all'inizio il professor vincitore era un antagonista assoluto dell'rdc adesso ne scorpora il problema cioè il problema del lavoro non è l'rdc ma lo sappiamo tutti che non è l'rdc lo sappiamo perché di base di base gli stipendi sono troppo bassi il salario minimo tra l'altro in germania lo stanno per aumentare lo stanno per aumentare lo porteranno a 12 euro all'ora in italia manco hanno cominciato a discutere e io vorrei sentire dai brigatore di turno persona che diciamo con con le fiamme gialle a qualche problemino più di qualche problemino se lo portano veramente a quel livello i suoi stipendi sono veramente quelli che racconta o sono frasi dette in favore di telecamera perché siamo sempre lì li sentite dire diamo paghiamo questo paghiamo quello fammi vedere un contratto una copia di un contratto di lavoro perché anch'io posso andare a dire bisogno ai pago 20 mila euro al mese sarebbe una balla enorme perché se mi chiedono fammi vedere il contratto e la cifra è parecchio inferiore tecnicamente per un nuovo ingresso è un decimo di quella che ho detto per un nuovo ingresso però è netta è lo dico perché si tratta comunque di attività specializzate ultra specializzate però cosa mi vengono a raccontare ma noi noi siamo disposti a offrire la luna fammi vedere un contratto e fammi controllare gli orari non lo fanno mai non lo fanno mai per quello se vi dico che mi incazzo con giletti perché giletti un anno fa era uno di quei fuochisti che intervistava questi poveri queste vittime segnatamente nella città di catania vittime di quella dell'rdc che questi non c'hanno voglia di fare un cazzo e poi vai a fare un paragone scopri che loro ti offrono 600 e l'rdc ti offre 500 però quelle condizioni di lavoro si applicavano più o meno negli stati confederati ma su queste cose giletti aveva dei buchi di memoria perché perché servivano a fare audience dopo quello c'è stato il cocco bello e quindi portiamo i casi umani con braccia finte dopo il cocco bello c'è quello che sapete allora portiamo i piangina e tutti quelli che sono alternativi perché fanno audience però poi se un giornalista ti fa il culo ti mette a dire io faccio informazione no tu non fai informazione tu fai scandalismo tu fai scandalismo e state neanche zitto perché se qualcuno mi dovrebbe venire qua a spiegare che cazzo di senso andare a fare una trasmissione da un locale che si affaccia sulla piazza rossa a parte buttare i soldi nel cesso ecco io sono detto saremo sempre avversari politici io il professor vincitore vincitore perché non saremo mai della stessa parte politica mai lui a prescindere sempre stato di destra io a prescindere sono sempre stato di sinistra cresciuto in una famiglia di sinistra con determinati ideali però io sono estremamente critico contro la mia parte lo sapete sono estremamente critico perché guardo prima in casa mia ma non questo non mi ha mai impedito di dire che se uno dice una cosa che è sostenibile anche dal punto di vista della narrazione cioè dice una cosa che è provata dai fatti io non gli do torto semplicemente perché è dell'altra parte politica perché questo ragionamento qui è quello che impedisce all'italia di andare avanti io non dico che se se uno di fratelli d'italia ha una buona idea non gli dico se uno stronzo non l'accetto perché sei di fratelli d'italia dico parliamone se questa idea può aiutare a migliorare la popolazione può aiutare a far vivere meglio le persone bisognerebbe ragionare così perché il mio scopo la mia idea di stato è che lo stato va servito a prescindere dalle tue posizioni politiche non lo stato deve piegarsi le mie idee politiche perché per me lo stato è la gente che parte dalla media borghesia e finisce il proletariato lo stato è quello per me non il mio ambito di riferimento elettorale quindi mi va benissimo sono contento poi ovvio che cos'è tu utilizza una terminata termine dialettica io ne uso un'altra ma lo sapete tutte e due lo sapete perdon tutti la relazione saraceno metteva in luce tantissimi difetti dell'rdc su cui c'era da mettere mano con impegno e costanza in quel momento non c'era un ministro pentastellato c'era un ministro del pd che se ne ha sbattuti i coglioni salvo adesso ricordarsi che ci sono dei problemi perché c'è la campagna elettorale e chiudo con due perle provi a capire quanto questa gente poi sia quello che sia una deputata di fra di italia viva mi sembra c'è stanno ci sta adesso scusatemi se non mi ricordo il nome però non è tanto il nome è il salto mortale che ha fatto perché questa è partita dall'eu dall'eu è finita in italia viva e adesso è passata forza italia non so è dal mio punto di vista è come se goebbels una mattina si svegliasse e chiedesse a un rabbino di essere convertito e di poter fare il bretmila ecco diciamo che la vedo così ma non è una cosa che mi stupisce perché perché ve l'ho detto alle prossime lezioni ci sarà una spazzolata tremenda e si cerca un riposizionamento per poter essere inseriti in una casistica che ti permette di campare io non ho mai detto niente sul cambio dell'arabetto da forza italia lega perché comunque rimasta nell'ambito della destra ma questa passa dall'estrema sinistra alla destra che è un po diverso e altro personaggio interessante in questo è già russo ex jena vi ricordate lo stesso fesso che va nell'europarlamento e si lamenta dan dicendo che è colpa dei poteri forti c'è un complotto perché non può parlare non può dare il suo intervento in meno della questione del pino perché lui non è in grado di esprimersi in un inglese corrente siamo in un parlamento europeo non all'osteria sotto casa e che non sapeva della questione della dell'iphone con problemi di accesso ai sistemi di di schermo va bene lasciamo stare le giustificazioni facevano pena ecco è uscito dal movimento cinque stelle si sono uscite voci che voglia migrare nella lega io lo so se è vero o no però la sua reazione cos'è macchina del fango già russo quando la macchina del fango la facevate voi era tutto a posto giusto adesso quando andrò in televisione dirò delle cose delle verità scomode sì a me sembra molto il bambino che si porta il pallone per giocare quando vede che non si fa come dice lui se lo porta via quali sono queste grandi verità scomode ribadisco tu vieni dalla trasmissione che letteralmente si inventava i servizi e ha continuato inventarseli dalla blue whale al alle spiagge iridescenti in cui si cercavano le cose con il contatore geiger comprato dal discount da lasciamo perdere le infamate verso la nazione nipponica che fortunatamente non ha visto quello schifo fatto dalla vostra iena che adesso non c'è più perché sennò vi partiva una querela che non finiva più e e adesso ti hanno buttato fuori perché la realtà è quella che conte ti ha buttato fuori e ovviamente tu cosa fai da perfetto personaggio che si è scavato una carriera in politica fai le vendettine da bambino eh quel ciuccio bravo sei perfettamente in tono con i tuoi colleghi quando esplose il casino della balena blu e si scoprì che era una patacca non si presero la responsabilità no diedero la colpa ai tecnici perché loro ovviamente non ne sapevano un cazzo è certo un giornalista come vi siete piccati di voler essere le fonti le verifica non è che gli basta un'immagine un video ma vi va bene così questa è la qualità dell'essere umano ecco sapete perché ho citato questi due casi perché quando poi si andrà a votare non adesso ma nella nella alle politiche ricordatevi se li trovate in qualche partito per quel partito non votategli perché vuol dire che quel partito si porta in casa i mezzani i mezzani i wannabe i falliti o i parafalliti chiudo con una cosa che mi ha fatto veramente imbestialire un tema una madre chiede nel 2018 non l'altro giorno di poter avere coppia del tema con cui la figlia che la figlia ha scritto per presentarsi all'esame di ammissione alla terza media la figlia non c'è più ve lo dico si è presentata all'esame in condizioni non voglio entrare nel merito non voglio descrivere la situazione in condizioni estremamente sofferenti ma ha voluto farlo lo stesso la madre ha solo chiesto la scuola un ricordo di quella figlia l'ultima prova che ha fatto quella ragazzina ci sono voluti quattro anni quattro anni il cambio di una preside e un'inchiesta giornalistica per far sì che quella madre avesse avesse il tema io penso che chi lo ha impedito io non voglio entrare nel merito non mi ricordo che ha scritto il fondo pagina del corsera neanche lui vuole entrare nel metodo io vado direttamente al punto non dare a una madre che non ha più una figlia che però ha voluto comunque affrontare quella prova un ricordo di quella prova non è questione di burocrazia non è questione di regole non è questione di niente semplicemente chi non l'ha fatto è un pezzo di merda a cui auguro tutto il male possibile ciao a tutti